Abbiamo acquistato delle telecamere per posizionarle all'ingresso del Parco Miralfiori nel quartiere di Vismara dove negli ultimi settimane si sono verificati gli atti vandalici. Al Parco Miralfiori ovviamente non ci nascondiamo dietro un dito, è una zona che dobbiamo presidiare, controllare e questo grazie al grande lavoro che si sta facendo con la Prefettura e con tutte le forze dell'ordine per gestire in qualche modo i controlli. Quello che ci preme a controllare, che vorremmo fare attraverso la videosorveglianza è anche capire chi sono gli acquirenti perché se c'è qualcuno che arriva a spaccia c'è sempre qualcuno che compra e non è che sono tutti extracomunitari quelli che comprano. Io penso che ci sono, li vedo anche passando, soggetti che sono chiaramente del territorio e se vogliamo schiantare questa piaga in quella zona della città bisogna capire chi è che va a comperare. Ci siamo accorti che adesso avviene il tutto entrando al parco, muovendosi in direzione della villa sul lato destro. Sul lato destro dove attualmente iniziamo ad intervenire per dare una pulizia dal sottobosco e per permettere anche alle forze dell'ordine una maggiore visuale. Nel frattempo c'è una volontà di controllare meglio quelle che sono le zone dove ci vengono segnalate situazioni un pochino più critiche e cioè il monumento alla resistenza e la zona del conservatorio, scusatemi, la zona di Galleria Roma e sono previsti pattugliamenti delle varie forze dell'ordine che si fanno la staffetta di controllo in questo territorio. Ovviamente le segnalazioni dei cittadini sono sempre gradite rispetto a quelle che sono le emergenze e le esigenze e cercheremo di dare risposte a breve.